Benvenuti in un nuovo video, oggi è arrivato un nuovo pacco di UlSupplement, io non vedo l'ora ho preso un po' le novità, sapete che io quando escono le novità le devo prendere infatti ho deciso con queste novità di farvi alcuni video e poi li vedrete più avanti sapete che io collaboro con loro, quindi giù nell'info box vi lascio sta cadendo tutto, aspettate, ok giù nell'info box vi lascio il link del sito il link del sito è il mio codice sconto che è giulia010 e vabbè sapete che ho fatto anche un video guidati a questo studio di UlSupplement ma per qualsiasi cosa potete sempre scrivermi su Instagram e mi trovate come Giulia Mifitto quindi abbiamo il pacco, subito è arrivato perché ho fatto l'ordine giovedì sera venerdì spedito, oggi che lunedì è arrivato allora, ho preso un bel po' di prodotti, devo dire la verità ok, appoggio tutto sul tavolo, altrimenti faccio vedere tutto ho fatto scorta della pizzerima ok, pizzerima io questa qui la adoro e ne ho prese due sapete che la amo quindi non mi soffermo più di tanto ho fatto tanti video, anche uno proprio con il pistacchio la pizza al pistacchio, quindi mi raccomando andatela a vedere che stiamo proprio random questo me l'hanno regalato sono i BCA0 io non prendo queste cose però vediamo un poco ah, finalmente ho preso la mia amatissima farina della Max Protein gusto butter biscuit, quindi biscotto al burro da rachidi io questa già la volevo, però con il Black Friday sono andate tutte a ruba tutte, però adesso le ritrovate di nuovo perché sono state rifornite insieme ad altri prodotti e quindi ovviamente l'ho presa la volevo troppo provare, appena ho fatto l'ordine anche se io sto piena 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 di farina ma questa qui la dovevo prendere perché raga, a volte anche per cambiare un po' tra la classica farina al cioccolato proteine al cioccolato, io arrivo dopo un po' che non ce la faccio più, mi disgusta e quindi ho voluto prendere un gusto un po' più soft poi 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 ho preso questa no, questa me l'hanno regalata Protein snack al pistacchio no, l'ho acquistata no, questa l'ho acquistata ed è al pistacchio penso che fuori crema al pistacchio e fuori cioccolato bianco della Self la proviamo insieme su... come si dice? la proviamo sicuramente insieme su Instagram ho preso un po' di creme spalmabili mi aspettavo un po' più riempita me l'aspettavo cioè il prodotto sta qui ok ed è però come è bella la confezione ed è pistacchio zero della Pro Nutrition in tantissimi mi avete detto che è buonissima e quindi io l'ho presa zero zuccheri così vediamo un po' se è come quella lì della Choco Relax la confrontiamo un po' questa qui ha i valori per 100 grammi ha 511 calorie 37 grammi di grassi 37 di carboidrati zero zuccheri proteine 25 quindi niente male la proverò e vi farò sapere poi ho voluto prendere lei perché raga ho finito tutte le creme bianche questa cosa non va bene sapete che io sono un amante delle creme bianche e quindi ho preso questa qui della Granade penso si dice così Carb Killa Protein Spread White Chocolate e Cookie così vediamo White Chocolate e Cookie così vediamo un po' se è uguale a quella lì di Prozis cioccolato bianco e biscotto cioè la caglia è spettacolare io non vedo l'ora di provarla anche di questi valori sono spettacolari e poi ho preso un bel po' di biscotti infatti ho fatto l'ordine per loro io li amo cioè raga chiudete questo video e andate sul sito e fate scorta di questi biscotti perché sembrano proprio dei cookies ho provato tantissimi biscotti nella mia vita proteici e posso dire che loro e quelli della Nato sono fenomenali infatti volevo prendere anche quelli però ancora non sono disponibili allora ho preso il marchio è sì legno ris the complete cookie vabbè gusto pumping spice pumping spice comunque zucca non compliciamo la vita è zucca allora praticamente questo è un bel biscottone da 113 grammi che questo qui voi lo potete dividere anche in due parti poi questo qui è salted caramel perché ovviamente qui dietro sta tutto scritto in inglese cioè pensate che qui ah non lo so qua sotto la tabella vabbè lo vediamo proprio nel video si vediamo nel video saltate caramel poi ho preso un modo bourgeon cake però se non sbaglio i valori non fanno tanto chifetto però raga non significa proprio perché sono troppo buoni peanut butter e poi va bene ho anche altri che poi li proveremo insieme vi ho dato già uno spoiler del video non si fanno queste cose ma va bene e poi ovviamente io ho fatto una scorta di barrette ho preso queste della my protein delle sexy layer che sapete le sexy layer sono fenomenali anche in meringa al limone è qualcosa di assurdo ho preso due torte di compleanno una questa qui chocolate ma poi a volte ad essere buone sono proprio belle 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 ho preso della granate questa qui della carb kill high protein gusto gingerbread cioè guardate questo meno di pan di ginger troppo bello infatti appena l'ho vista che c'era perché ho visto visto che il supplement ha messo la sezione novità ho visto che stava le barrette della carb kill nella sezione novità ho fatto ma che novità ci stanno se ci sono sempre state sono andate a vedere erano i gusti nuovi e c'era solo questo adoro poi questo è un pre-workout della biotech USA vedremo e poi ho preso un'altra di questa qui della sempre la barretta della carb kill gusto torta di compleanno spettacolare poi mi sembra che non c'è niente no non c'è niente più quindi niente io spero che questo video vi sia piaciuto anche se è breve quindi niente spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao